La regione interviene per riportare i treni sull'Alecco-Como, ma i pendolari non saranno di certo soddisfatti. Delle 13 corse su 23 cancellate ne sono state ripristinate solo due. Il treno 5202 che parte da Molteno è il ritorno da Como-San Giovanni a Lecco. Lo ha confermato l'assessore ai trasporti e mobilità Claudia Terzi, rispondendo in Commissione Territorio e Infrastrutture, a un'interrogazione presentata dal consigliere Raffaele Straniero. Dopo le segnalazioni del comitato pendolari e dei consiglieri del territorio, ha spiegato Terzi, la regione ha chiesto a Trenordi di ripristinare almeno due corse al mattino, ottenendo la riattivazione della 5202, con partenza da Molteno e arrivo a Como alle 8, e la conseguente di ritorno la 5205, con partenza da Como-San Giovanni e arrivo a Lecco alle 9.03. Non sarà invece possibile, ha spiegato l'esponente della giunta Fontana, coprire il buco che va dalle 9 e 30 alle 12.30, non per volontà di Trenord, ma perché queste tre ore vengono riservate da RFI per interventi sulle linee. Terzi, infine, ha aggiunto che due treni in questione sono utilizzati prevalentemente da studenti e, nei periodi in cui sono chiuse le scuole, portano un massimo di 30-50 passeggeri per treno. Nonostante ciò, ha ribadito, viste le richieste del territorio, ci siamo subito attivati per ottenere un risultato. Non posso che ritenermi in parte soddisfatto della risposta, spiega Straniero, quanto addotto da Trenord e riferito dalla regione, cioè che quelle corse vengono utilizzate solo dagli studenti, è vero solo parzialmente e posso smentirlo immediatamente. Sono utilizzate anche dagli altri pendolari, che così vengono penalizzati. E spero solo che questa fase duri finché ci sarà l'emergenza, altrimenti tutta la linea ne soffrirà. Nel contempo, ho chiesto di tenere monitorata la fascia dalle 9.30 alle 12.30, che l'assessore ha riferito essere stata lasciata libera per eventuali lavori di RFI. A noi ne risultano effettuati dal 25 al 31 maggio e poi non più. In ogni caso, si potrebbero apportare le modifiche di orario richieste dai passeggeri non appena saranno terminati, conclude Straniero.